Eccoci qua tornati. Con Sara oggi ne voglio fare 10-15 di video. Infinito. Ok. Come vede una ragazza, un uomo che ci prova in maniera un po' goffa. Nel senso, quando l'ho scritto questo argomento, nella testa avevo il ragazzo ci prova in maniera goffa però comunque ha fatto l'azione. Esatto, anch'io te lo volevo dire. Io lo vedo in modo positivo questa cosa, non in modo negativo. Però so che ci sono tante ragazze che lo vedono in modo negativo, tipo è un po' sfigato. Invece no, secondo me ti sei buttato e hai fatto bene, cioè un po' in maniera goffa a furia di buttarti imparerai a essere un po' meno goffo, che poi secondo me essere goffo viene anche un po' dalla timidezza, no? Sì, è la prima esperienza. Esatto, è la prima esperienza, quindi ci sta. Secondo te dipende il tuo atteggiamento dalla situazione? Cioè, cambia il tuo atteggiamento quando tu sei tutta bella fighettata, sparata a tiro, quindi sei in un locale rispetto a che sei per strada? Allora, ma ti dirò no. Cioè nel senso, magari in strada sono più diffidente, cioè nel senso in strada se uno ci prova dico ma questo veramente da dove sbuca? Se sono in un locale... Te lo aspetti. Me lo aspetto, sì, ma no, non perché magari sono più carina, più curata, vestita meglio, tra virgolette, in un locale allora... Anzi, mi credo più... Di solito mi è capitato, magari sono in un locale, si avvicina un ragazzo, ci prova in maniera goffa, cerco di metterlo a suo agio. Perché se poi mi metto lì a fare la vamp, cioè questo... Nel senso lo metto ancora più in difficoltà, non ha senso, non è bello. Cosa ti fa dire ok lo metto a suo agio? Cioè cos'è che protegge? Perché comunque io immagino che tutti quelli che ci provano in maniera un po' goffa, impacciati, biascicano, non ti fanno tutti la stessa. Io preferisco quelli che ci provano in maniera goffa piuttosto che quelli che tentano di baciarti e nemmeno ti hanno chiesto il nome, sinceramente. Vedete ragazzi, cioè non è che dovete essere perfetti, io l'ho scritto apposta, non dovete essere perfetti, dovete comunque superare un po' il vostro limite. Ok, tu quindi tendi a mettere a proprio agio tutti quanti, in generale, cioè il goffo che però ti mette in imbarazzo, io penso che... Sì, però è difficile, cioè come fai a mettermi in imbarazzo? Cosa devi fare per mettermi in imbarazzo? Che ne so, da film, che ne so, non lo so... Oh, se uno cade e mi lascia il cocktail addosso, cioè lì effettivamente, vabbè, mi arrabbio magari un pochino. Ne hai avuti i goffi? Sì, qualcuno goffo sì, che ci provava sì, però ripeto, cercavo di metterlo a suo agio perché... Cioè... soprattutto per strada, io consiglio sempre, vai là e dille che sei agitato, perché in realtà tu sei timido perché è la verità. Dimmi cosa ne pensi, una ragazza di base, quando vede che un uomo si denuda, toglie la corazza, è molto più propensa al dialogo, a parlare, è molto più... Trovate anche a suo agio. Sì, 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 decisamente. Cioè, per me sì. Se una persona comunque si spoglia, no? Sì. Nelle sue debolezze è un punto in più a iniziale, perché comunque dimostri di avere quel punto debole e che per quella ragazza sei disposto a mostrarlo. Magari per un'altra no. E quando conta la decisione, invece, secondo te? La decisione nel senso... Essere decisi sa che comunque ti piace, no? Vabbè, sì. Eh, vabbè. Quello viene col tempo, oppure ce l'hai anche innato, non lo so. Però è bello, molto bello. Esiste una decisione nell'essere goffi? Ma spererei di no, nel senso che... Cioè, c'è nell'essere goffi anche un pizzico di decisione? Sì, sì, sì. Beh, quello sì. Sì, un po' di decisione sì, perché ti sei buttato, nonostante sai di essere timidi, di non saperci fare. Ciao. Allora, aspetta, aspetta, ti dico. T'ho vista e mi ha... Insomma, non so bene cosa dirti, in realtà. Però ho detto, questa ragazza mi incuriosisce. Tra l'altro, poi tutto è total black. Cioè, capisci? Questo intendo. Oh, ma ci sta. Quello va bene. Cioè, rimetto a mio anzo. Cioè, il riuscire a riprendersi dalle proprie gaff. Sì. E quindi essere un po' decisi? Quello va bene. Va bene? Ci siamo. Quando è un problema? Quando è un problema? Quando continua così, che magari io cerco di metterti a tuo agio e tu continui a rimanere goffo, oppure aumenta la tua goffaggine. Questo è molto buono, eh. Questo è molto buono. Ripetilo. Quando io cerco di metterti a tuo agio, ok? Quindi sono gentile, magari stiamo parlando, si sta bevendo anche un cocktail. Magari ti faccio qualche domanda, ma domande molto pacate. E tu continui a essere goffo, oppure aumenta la tua timidezza, la tua goffaggine. E lì bisogna lavorarci su. Sì. È che tu, Sara, quando sei in tiro, sei figa. E quindi si prendono male le persone, gli uomini. Tu lo noti? Ma guarda, ti dirò, in realtà mi capita, se vado in giro, anche in un locale, vestita, con un jeans, una maglietta, un tacco, ci provano molto, si avvicinano molti più ragazzi, magari quando ho l'abitino corto e il tacco, a me è successo molto spesso. Cioè, aspetta, si avvicinano di più quando? Quando sono vestita in modo casual, cioè che magari ho quel jeans, il tacco e la maglietta. Perché te l'ho detto? Ma invece magari quella sera che dico, mi metto questo abitino stupendo che ho comprato, mi piace un sacco, corto, attillato, nessuno. Hanno paura. Ti giuro, sì sì, ma l'ho notato anch'io. Tu cosa, cioè, tu lo noti, lo vedi? Ma l'ho notato perché una sera mi sono vestita, sembrava mortisia, non dovevo neanche uscire, non uscita con un'amica, siamo andati in questo locale a Milano, ma io ero veramente vestita normale, cioè così più o meno, e si sono avvicinati un sacco di ragazzi, con dei complimenti anche degli amici, come sei figa stasera, e io dicevo, ma dopo dove, no? Che magari quelle volte che mi metto l'abito paillettato, col tacco 12... Lo pensano, ma non te lo dicono. No, esatto. Quello, lo pensano molto bene. Sì, sì, sì. Ragazzi, vi voglio dire fanculo, però perché devo dirvi fanculo? Ragazzi... No, sei gentile. No, no, ragazzi, alla prossima. Alla prossima.